Eh sì, no, però il flash me lo leviga. Ecco qua, ombre cinesi, l'archeologia del cinema. Prima si potevano vedere questi trappolini qua, ma adesso è vietato per via del covid. Ombre, ma sta filmando sto sacramento qui, sì. La mia figliola. Lenti contro lenti, eccetera. Ci vediamo alla prossima attrazione. La mia figliola. 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 La mia figliola.